Fuori il problema, dentro la soluzione. Con questo motto Francavilla Fontani Nazione, il movimento dell'ex ministro Carlo Calenda ha incontrato al Bardendi di Viali Lilla Fabiano Amati, consigliere regionale del Partito Democratico e candidato alle primarie del centro-sinistra. Amati, alla vigilia del voto, ha lanciato due allarmi su trasparenza e spontaneità del voto. Se si compete e non si rispettano le regole, candidandosi nelle istituzioni in cui le regole servono a sviluppare e a migliorare la vita delle persone, mi pare che è una contraddizione, quindi è il minimo sindacale. Io gioco fuori casa e non ho neanche l'arbitro a mio favore. Sì, è evidente che il presidente Emiliano ha un sistema, una strutturazione di potere che va avanti da un po' e quindi è inevitabile. La nomenclatura del PD si è schierata con il presidente Emiliano, qualche regola si è tentato di aggirarla, tant'è che ho provveduto subito a segnalare quei rischi. Mi pare che si possa dire che bisogna combattere in maniera risoluta per poter ottenere il risultato, cambiare e presentarsi alla Puglia con una ipotesi nuova. L'ex ministro Calenda nelle scorse settimane ha sparato a zero sull'attuale governatore. Dirigenti e simpatizzanti di azione a Francavilla Fontana hanno deciso di sostenere Amati per chiudere l'era Emiliano. Punto su Fabiano Amati, c'è stata prima una discussione a livello regionale da parte dei referenti di azione, poi c'è stato anche l'endorsement fatto da Carlo Calenda, ci ha fatto particolarmente contenti, perché di Fabiano Amati in contrasto con le politiche di Emiliano, che noi li teniamo fallimentari. Non a caso Carlo Calenda lo ha detto nel suo video dell'endorsement a Fabiano Amati, il perché, e ce ne sono tanti di perché.